Tutututurr Ok No Destra a destra sinistra destra re b destra sinistra y No la cittadina ahahah ne ho fatto adesso andiamo tutti e 5 a prendere la base vai specifichiamo muori gay eh dai vieni, vieni fuori sono morto quadrupla uccisione what the fuck come ho fatto? eravamo tutti full vita stavamo per fare quintopla stavamo per fare quinta kill ma ho fatto solo una quinta kill e stai facendo il quinto ti spingo eh l'hai voluto tu stupido no 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 stupido troppo stupido no sto morendo aiutami ma il cavolo che ti infari spero che ti uccidano mini scotch è stato ucciso da zombie ahahah no no zombie no 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 il tuo buco del cavolo sei morto sei morto ragazzi è morto il tuo buco del cavolo adesso come faccio sei morto sei morto ti ha colpa tua uh attenzione attenzione partono di nuovo in fascia partono di nuovo Lennon Lennon ce la fa ce la fa è Lennon è lui GOAL GOAL QUARANTESIMO 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 ragazzi oh sindy 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 aspettami aspettami sindy non andare in mezzo e sindy è morta ma cioè se se vuoi se non ti butti anche in mezzo agli zombie magari certo tre soldati per una mela minchia l'ho messo bene amico era ovvio che non stavano presto presto tra sono infilato nel muro cazzo oddio raga sono sono entrato nel muro oddio vai ok ce l'abbiamo fatta anche per me tizia molto brutto ok ti posso uccidere la posso uccidere a quanto pare no non essendo regalto che non vuoi accelerated non questa è Grazie a tutti